sono altre persone senza mascherina accompagnati ma perché agli altri non glielo dite vai accompagnarci senza mascherina vai accompagnarci senza mascherina hai capito? noi lo stiamo dicendo a tu accompagnami, se la fai accompagnarmi accompagnami, dai mettimi le mani addosso mettimi le mani addosso vai filmato mettimi le mani addosso, sto aspettando sto aspettando che mi metti le mani addosso per accompagnarmi sto proprio aspettando io non ti sto minacciando che ti sta minacciando? ma vai affanculo pelato vai accompagnarci senza mascherina vai accompagnare anche lui vai accompagnare non parlare con mia moglie ma parlare con mia moglie che ti mangio vivo che mi sta minacciando? che mi sta minacciando? che mi sta minacciando? meno di gente senza mascherina vuol per cazzo a me cosa sono io? chi è testa di cazzo? 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 dimmi ancora testa di cazzo dai feglione puttana dimmi ancora testa di cazzo dai dimmi ancora testa di cazzo dai dimmi ancora testa di cazzo